E' bello a tutti ragazzi, siamo qua in un nuovo video di Minecraft Oggi faremo il McDonald No, non ti si vede, Gioele Oggi siamo qua in un nuovo video di Minecraft E faremo il McDonald, come ho ripetuto Io sono in collegamento con un mio amico Che si chiama Giovanni E niente, adesso faremo Minecraft Faremo il McDonald Allora, per intanto mettiamo delle cose di legno qua Ok Oggi faremo solo la scritta del McDonald Faremo la casa e poi basta Prossima volta moderneremo il McDonald Ok Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Allora, stiamo finendo quasi Dopo Noi adesso faremo il tetto Con le scale Sì, vabbè Lo sapete già Dopo vi farò vedere Un altro video dove andrò a spaccare un villaggio Mettiamo questo qui Per intanto Metteremo anche dopo Metteremo Un altro video dove andrò a spaccare un villaggio Ok Eh, ragazzi Adesso noi metteremo Per il pavimento Mettiamo Subito subito mettiamo delle torce Perché se no Non si vede niente Ehm Poi Nel prossimo video farò anche Come vi avevo detto La stazione di Ehm Mi ricordo più Ah, la croce rossa Ecco Cosa che dovremmo fare Ehm La faremo Nel prossimo video sicuramente Che farò Penso domani Sì domani Farò Dove Vedrò Alle 5.30 Uscirà il nuovo video Uscirà Faremo il nuovo video Di Minecraft Ehm Niente Andiamo avanti Non guardate i pavimenti che sto mettendo Perché Perché per l'intento mettiamo questi qua Più avanti metteremo Altri Ehm Ho capito Che cosa dobbiamo mettere Io non sono tanto capace A giocare con questo Però Intanto Ehm Facciamo qua 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 Poi dopo Usceremo A fare Ehm Usciremo Dalla casa A fare Ehm La scritta Proprio adesso Lo facciamo Lo so Che vedete Che sono delle scatole Però Non ci fate caso Perché Per l'intento Usiamo queste qua Ok Ok O chamo Le porte Le metteremo nel prossimo video Lo sapete già Ehm Ehm Non so Non so Non posso neanche io fare niente Dovremmo aspettare Infatti va molto Ma molto male il gioco Ma molto Ma molto Io provo Proverò A rimediare Ehm Nel prossimo video Rimuoveremo Questo Bellissimo McDonald's Prossimo video Ciao a tutti Ciao Ah volevo ricordarvi Che questa qui È la casa di Joel Ok Ciao a tutti Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao